In particolare anche è una persona che sicuramente ci ha fatto crescere umanamente tantissimo ha messo a disposizione tanto tempo, è venuto da Luca a Costa è una persona che oltre a insegnarci qualcosa sul teatro ci ha veramente fatto crescere umanamente come persone perché come prima cosa soprattutto ha stimolato in noi anche domande e siamo così un po' tutti maturati e il nostro regista si chiama Vincenzo Morita e il nostro regista si chiama Vincenzo Morita Vincenzo Morita